Siamo a Hockeybrick in una giornata speciale di Maria Himmelfahr che sarebbe per agosto 15 agosto 2019 da qua siamo venuti sempre che di l'inverno con sci con slittera che di estate mi piace molto un buongiorno a tutti quelli che ci conoscono oggi 15 agosto 2019 siamo di festa siamo in Kantonschwitz in Hockeybrick Svizzera siamo qui nelle Alpi io e mia moglie Cameluzza ecco c'è un po' di vento vedete un po' come qua forse sento un po' di vento mi giro roba Alpi svizzeri come si dice no così avete un'impressione qui com'è vuoi dire tu qualche cosa un saluto caloroso a tutti dalle Alpi svizzera Kantonschwitz Hochibrick ciao a tutti Grazie 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 a tutti Oh! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.